salve a tutti vediamo se questa persona vi rimpiange vediamo vi rimpiange questa persona qui ha preso una scelta c'è stata una scelta direi proprio di sì qua viene proprio la carta del rimpianto vedete rimorso vi rimpiange è malinconico molto malinconico perché con voi stava bene aveva questa abbondanza questa scelta che voi probabilmente avete fatto di porta si rimpianto poi abbiamo qua anche porte chiuse quindi la chiave capovolta e quindi questo rapporto felice che aveva con voi anche se durato poco per lui era una cosa importante era un degli incontri amorosi molto belli e passionali ma adesso vi considera una donna che siete contro quindi questo è quanto ragazze questa persona vedete in qualche modo sa di aver perso un'occasione con voi voi vi siete e adesso un po come dire rivoltate contro perché c'è stato un tradimento e quindi avete chiuso quindi avete interrotto questi incontri amorosi e questo rapporto felice che lui comunque piaceva comunque alla domanda vi rimpiange assolutamente sì questa vostra scelta avete chiuso avete che avete proprio chiuso le porte con questa persona per difendervi e lui adesso vedete con questo questa carta del trifoglio capovolto sente di avere delle occasioni perdute che ha perso delle occasioni con voi ciao ragazze